Ciao a tutti, eccoci arrivati all'ultimo gradino del ripasso delle divisioni a due cifre, questa volta il livello 4, quello un po' più difficile dove mettiamo insieme tutte le conoscenze che abbiamo acquisito e appreso nei passaggi precedenti. Allora faccio un po' di spazio sullo schermo in modo da poter svolgere tranquillamente, speriamo, senza far pasticci, la divisione 1374 diviso 25. Devo guardare quante volte il 25 sta nel 1374. Metto il cappellino sul 137, perché prendo tre cifre? Perché il 25 nell'1 non ci sta, nel 13 non ci sta, ma nel 137 ci sta. Ricordo sempre di lavorare nel divisore, cioè il 25, in modo separato tra decine e unità. Iniziamo dalle decine, cioè il 2. Guardo il 2 quante volte sta nel 13. Attenzione, è importante prendere sempre le prime due cifre in questo caso. Allora devo guardare quante volte il 2 sta nel 13. Conto con la tabellina del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ci sta 6 volte con il resto di 1. Mi chiedo il 5 nel 17, ci sta 6 volte? 5, 10, 15, 20. No, siamo già oltre, quindi devo provare una volta in meno. Il 2 nel 13 lo faccio stare 5 volte. Proviamo con la tabellina. 2, 4, 6, 8, 10. Questa volta il resto sarà 3. Il 5 nel 37 ci sta 5 volte? 5, 5, 10, 15, 20, 25. Sì, allora posso scrivere il 5 nel risultato. Faccio la moltiplicazione. 5 per 5 è 25. scrivo 5, 5 riporto di 2. 5 per 2 è 10, più 2 di riporto fa 12. Faccio la sottrazione. 7 meno 5 è 2, 3 meno 2 è 1, 1 meno 1 è 0. Faccio scendere il 4 e guardo quante volte il 25 sta nel 124. Iniziamo dal 2. Il 2 nel 12 quante volte sta? Ci sta 6 volte perché 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 volte. Il 5 nel 4 ci sta 6 volte? No. Allora provo una volta in meno. Il 2 nel 12 lo faccio stare 5 volte. 2, 4, 6, 8, 10. Con il resto di 2. il 5 nel 24. Il 5 nel 24 ci sta 5 volte? Proviamo. 5, 10, 15, 20, 25. No, siamo già oltre, non ci sta. Allora proviamo ancora una volta in meno. Il 2 nel 12 lo facciamo stare 4 volte. 2, 4, 6, 8. Questa volta il resto sarà di 4. Il 5 nel 44 ci sta 4 volte? 5, 10, 15, 20. Sì, ci sta 4 volte. Lo scrivo nel risultato. Faccio la moltiplicazione. 4 per 5, 20. Scrivo 0, riporto di 2. 4 per 2, 8. Più 2 di riporto fa 10. Faccio la sottrazione. 4 meno 0, 4. 2 meno 0, 2. 1 meno 1, 0. Il risultato di questa operazione sarà quindi 54 con il resto 24. Se riuscite fate la prova. 54 per 25 a cui dobbiamo aggiungere 24 di resto. Allora, abbiamo finito il nostro ripasso sulle divisioni. Siamo stati dei super campioni, quindi ci meritiamo la solita bella faccina. Questa volta la facciamo spelacchiata. Vediamo come mi viene. Beh, poteva andare meglio ma anche peggio. Ci vediamo alla prossima puntata, diciamo così. Un saluto a tutti e a presto. Ciao ciao! Ciao!